Presidente della provincia di Matera, settimo anno, un evento importantissimo, quella di Matera e Fiera, sicuramente una grande soddisfazione anche per la provincia, direi anche per l'intera Basilicata. Sì, infatti questa è una di quelle iniziative che fanno bene sia a Matera ma specialmente alla nostra provincia e all'intera Basilicata. Ultimamente si stanno anche allargando, come è successo l'anno scorso, anche a far arrivare gente da altre regioni e questo è fondamentale per questa realtà. Grazie a questa fiera c'è l'opportunità anche di far conoscere i nostri territori con le loro peculiarità e i loro prodotti di eccellenza. Oggi sono presenti anche qui i prodotti del nostro territorio, di milioni, dei comuni limitrofi, di grottole, di ferrandina, dell'olio, di grassano. Quindi significa avere una vetrina qui a Matera, capitale della cultura 2019, dove poter valorizzare e far conoscere i nostri prodotti. A proposito di Matera, cultura europea del 2019, la provincia sicuramente già sta lavorando per raccogliere tanti turisti da tutta Europa, ma direi anche da paesi che non sono parte dell'area dell'Unione Europea. L'emozione è senz'altro grande. Sicuramente Materifiera avrà un compito importantissimo durante quell'anno di festeggiamenti della cultura europea qui a Matera. Sì, noi abbiamo anche il compito di fare in modo di traghettare i tanti turisti che arriveranno qui nella città di Matera, anche nella nostra provincia. Matera ha 2 mila di dati che abbiamo, Matera credo che tra virgolette scoppierà, saranno tanti i turisti. Quindi significa avere un'opportunità anche per il nostro territorio, dove è poco popolato, non c'è una densità molto alta. Significa portare anche sul nostro territorio, nell'entroterra della nostra provincia, delle opportunità per i nostri concittadini. Signor Vice Sindaco, oggi qui ovviamente come parte civile, nel senso metaforico del termine, ad inaugurare il settimo anno di edizione di Materifiera. Sicuramente una grande soddisfazione per voi come amministrazione comunale. Certo, è una realtà che si ripropone ogni anno e lo fa sempre con una metodologia e anche delle esposizioni di grande rilievo e soprattutto che hanno saputo nel corso degli anni affermarsi nel territorio, non soltanto cittadino, ma dell'intera area murgiana. Questo ci soddisfa perché naturalmente ci mostra un tessuto vivo dal punto di vista sia imprenditoriale, ma anche di collaborazione e di condivisione con i fabbisogni e soprattutto con i temi di attualità del territorio. Ormai Matera ha la sua importanza a tutti i livelli, abbiamo la festa a settembre della Coppa Sciria, avete anche la festa della Bruna che è molto importante, Materifiera, però l'evento più eclatante e più importante senz'altro è quello di Matera 2019, capitale culturale dell'Unione Europea. Sì, è un percorso che noi stiamo negli ultimi mesi affrontando ad ampie falcate perché riteniamo che sia importante non soltanto quale risultato da conseguire in quell'anno, ma soprattutto quale elemento determinante per creare le basi per tutto ciò che sarà il cammino della città dopo il 2019. Quindi in maniera sostanziosa la città, la parte politica, tutta la società civile è ripiegata per conquistare quegli spazi che la vedranno protagonista dopo il 2019 e quindi per i prossimi 30 anni. Grazie.